Buongiorno a tutti. Oggi prepareremo un siero per il coppo tonificante elasticizzante. Questo siero è stato preparato con degli estratti vegetali molto utili, come il luppolo, che oltre a preparare la birra ha molte proprietà cosiddiche. È un tonificante, un vitalizzante e ha proprietà anche elasticizzanti per la pelle, quindi è ottimo per prevenire e ridurre le smagliature, oltre a tonificare anche la pelle. Altri estratti che ho utilizzato sono l'estero DJ africana. La DJ africana è un albero che ha pure delle proprietà rassodanti e tonificanti per la pelle. È molto utile anche in caso di smagliature. Ho utilizzato anche il ginseng, che è una pianta asiatica. Anche questa protegge la pelle dall'invecchiamento precoce e quindi previene i sedimenti dei testi, quindi è un rassodante. Ho utilizzato anche un oleolito di urucum e di carota. L'urucum, oltre a contenere molto beta-carotene e quindi essere utile per preparare la pelle al sole, è importante anche come preventivo delle smagliature. Anche la carota mantiene la pelle molto luminosa perché è un antiossidante e rallenta gli effetti di l'invecchiamento perché è ricco di vitamina A. Veniamo adesso alla preparazione del siero rassodante dentro delle smagliature. Oltre all'oleolito di urucum e carota ho utilizzato degli oli pregiati adatti per le smagliature che sono l'olio di rosa moscheta, l'olio di diarmi di grano, l'olio di mandorle dolci. Ho utilizzato anche l'olio lito di davanti a camomiglia calendula e il topoferolo vitamina E. Ho quindi mescolato i vari oli con gel di aloe vera e gel di acido ialuronico. Per separare il gel di acido ialuronico potete cliccare qui per guardare il video di preparazione. Quindi ho mescolato i gel con gli oli. Come vedete il gel che si formerà avrà questo colore arancione che è dato dal beta carotene contenuto nell'ulucum e nella carota. Un'altra che si è formato quindi questo unico gel, quindi abbiamo amalgamato il tutto, possiamo inserire gli attivi. Il collagene che è importantissimo perché è proprio la rottura del collagene che porta alla formazione di smagliature e di nude. Quindi l'ingrediente è molto pregiato e utile in questo caso. Nell'assocell che anche questo è un ingrediente che è importante per plasticizzare la pelle. Le ceramidi che servono a mantenere la funzione di barriera della pelle, quindi a renderla meno sensibile e poi i vari estratti di chingelia, ginseng e lupolo. Ogni ingrediente mescoliamo bene. Dopo aver mescolato il tutto possiamo inserire oli essenziali specifici per le smagliature e tonificanti che sono l'olio essenziale di mandarino, di rosmarino, di limone e di menta petita. Questi oli essenziali serviranno anche a dare un profumo alla crema, dato che gli estratti non hanno avuto un buon profumo. Dopo aver amalgamato il tutto inseriamo anche il conservante e misuriamo il pH che dovrà essere tra 5 e 5.5, che è il pH adatto per la pelle. Una volta amalgamato il tutto possiamo versare in un contenitore e ogni volta che lo utilizziamo questo prodotto dobbiamo agitare prima dell'uso. Questo siero ha questa consistenza, una consistenza gel di questo bel colore arancione e potete utilizzarlo sia dove avete le smagliature ma anche per assodare dei coltè, dove avete più bisogno. È un siero molto utile per assodare e elasticizzare la pelle. Questa è la ricetta. Spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video.